Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Canta e Liberta. Oggi siamo nello spazio riservato ai vocalizzi e ci farà compagnia Giorgia Castelmezzano che ci aiuterà per quanto riguarda le voci femminili. Il vocalizzo che andremo a fare oggi, nel vocalizzo di oggi, utilizzeremo il bubble che è quella tecnica che prevede di mettere due dita qui sulle guance possibilmente per ammorbidire un po' le labbra e stare ovviamente rilassati e fare una specie di sbuffo, tipo... Com'è Giorgia? Ovviamente ridendo non si può fare il bubble perché si tende, quindi bisogna essere seri, fate seri. E poi mettiamo il suono. Come se dietro ci costa un suono Tipo un lamento Quando siete riusciti a fare questo suono, magari prolungatelo più possibile A diverse altezze, poi si può provare a fare questo esercizio, dopo la sigla. Bene, iniziamo con il vocalizzo. Ovviamente inizieremo dalle voci più basse, quindi dai bassi per i maschietti e dai contratti per le femminucce. Quindi vi facciamo ascoltare il primo proprio step. Giorgia, fai tu con le mani così il suono. Sì Provate voi Le maschiette Quindi la femminucce Provate voi Sempre leggeri. Continuiamo con le voci più acute. Continuiamo con le voci più acute. Ovviamente cercate sempre di essere rilassati e portare il suono a come un lamento dietro il bubble. Cioè Se non ce la fate fermatevi prima ovviamente e poi riscenderemo. Facciamo l'ultimo. Esatto. Cominciamo la discesa. Provate voi Cominciamo la discesa. Per i tenori i soprani già qua può andare bene. Continuiamo con le voci più basse. L'ultimo. Bene, abbiamo fatto. Spero di avervi fatto cosa è gradita. Io ringrazio Giorgia Castelmezzano per averci aiutato. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao. Ciao ciao. Ciao.